Musica 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 Ciao gentaglia, sono ShetaHatesu, questo è Breaking Italy Avete già deciso cosa farete a Capodanno Avete già affittato la villetta, andrete a casa degli amici Insomma le solite cose, fuori fa freddo Ecco l'alberello, atmosfera natalizia Eccovi un video per iniziare L'ho fatto un altro youtuber L'ho trovato stamattina mentre facevo la solita Ricerca di notizie Per questo show dell'amicizia Potreste apprezzarlo in due Casi, il primo se aveste mai giocato A DayZ, perché è una sorta di parodia Del videogioco, o due se foste Come me, che non avete mai giocato a DayZ, ma sapete tutto di DayZ, perché avete Guardato molti streaming su Twitch Il che non ha senso, perché magari siete Di quelle persone che dicono, ma non capisco perché le persone Guardano gli streaming e non giocano Ecco, io Alle volte faccio questa roba qui. La prima cosa Della quale volevo parlarvi oggi, che ho trovato Interessante, ma non particolarmente Importante è relativa A McDonald's, che come sapete È un po' in crisi apparentemente O almeno ne avevamo già parlato Perché sembrerebbe che la grandissima catena Che comunque rimane la catena più grande Del mondo, e apparentemente Dal lavoro in tutto il mondo ha qualcosa come 1,8 milioni Di persone, starebbe conoscendo I primi segni della crisi. Ora, effettivamente Ogni volta che io vado in un centro commerciale Vedo le incredibili file che ci sono Per andare a mangiare Da McDonald's, e attenzione Non vi giudico, anzi Mmm... Però apparentemente sempre meno persone Vanno a mangiare da McDonald's Perché varie cose, principalmente Relativi al fatto che I target di McDonald's, ovvero Giovani sino ai 30 anni Più o meno Preferiscono andare altrove In altre catene meno conosciute Ad esempio c'è Chipotle O Chipotle O quella roba lì Che è molto famosa negli Stati Uniti Ovviamente noi non conosceremo mai Perché da noi non arriva mai niente Anche KFC sarebbe appena arrivato A Roma, quanto ho capito, no? Kentucky Fried Chicken Lo conoscete perché è al centro di ogni meme O meme O mimi O sparati in un piede billy Ma il punto è che con il cambio generazionale E con il cambiamento dei costumi Che vuole le persone che cercano di mangiare In modo un po' più sano McDonald's stia perdendo clienti Se fossi interessati Vi lascio un lungo articolo in descrizione Ve l'avevo già linkato settimane fa Che parla di questa roba qui È italiano, è lungo, è interessante Ma la cosa che ho trovato davvero interessante È che una delle strategie per riportare clienti in casa Sotto l'insegna inequivocabile degli archi gialli Sarebbe quella di rendere possibile per i clienti Il crearsi il proprio panino tramite i terminali All'interno di McDonald's Quindi tu ti avvicini al terminale Schiacci un po' di cose Dici ci voglio il pane Ci voglio il tacchino Poi qualcuno smette il tacchino No non esiste Ci voglio l'hamburger Ci voglio un altro hamburger Ci voglio un terzo hamburger E il cetriolo E insomma non lo so Gentaglia volevo chiedere a voi Perché voi come me Fate parte della generazione Che in teoria Non va più da McDonald's O ci va di meno Parlando di cose più serie Gentaglia Molti di voi mi hanno richiesto direttamente Di trattare questa notizia Perché apparentemente È una roba importante E apparentemente C'è molta disinformazione In merito E ho già detto molte volte Apparentemente Ve ne siete accorti Siete distratti Questa tizia Si chiama Zoella Ma è un nome d'arte Che usa su Youtube E il suo vero nome Sarebbe Zoe Ed è una 24enne Blogger Slash vlogger Britannica Ora internet è vasto Io non la conoscevo Anche perché Sospetto che il suo pubblico Non siano esattamente Trentenni nerd Che pensano continuamente A politica, videogiochi e sushi Comunque questa ragazza Ha scritto un libro E sto libro Si chiama Girl Online Lo ha messo in vendita E ha venduto In una settimana 78.109 copie Stracciando primati Precedentemente ottenuti Da scrittori Molto più famosi di lei Da libri molto più famosi di lei Harry Potter È un chiaro esempio Di questa roba E quindi tutti sarebbero contenti Non fosse soltanto Che ad un certo punto Vista la grande popolarità La ragazza è stata attaccata sul web Perché guarda un po' La storia è sempre la stessa La gente ha molta rabbia Molta frustrazione da sfogare E spesso la sfoga sulle genti Che vede online E per farvi un'idea Di cosa sto dicendo Basta guardare i commenti Ve ne lascio magari uno a caso In descrizione È una notizia che molte persone Fanno sulle pagine facebook Dei grandi giornali nazionali italiani E una delle accuse Che è stata annossa alla ragazza Non è scritto tu il tuo libro Quindi grande polverone E poi grandi titoloni Dopo che la ragazza Prima di annunciare Un suo distacco momentaneo Dalla piattaforma youtube E il dire Ok vado un attimo in vacanza Fottetevi Ha detto sì Sono stata effettivamente Aiutata un po' Dalla casa Che ha poi pubblicato Il libro è quindi Blaaa Ma anche un sacco di voi Mi hanno scritto Buuuu vergogna Guarda Che cosa succede nel mercato Che non è mai successo Prima d'ora Ma la figura del ghost writer È una figura Che per chi non lo sapesse È un tizio che scrive i libri Per altre persone Perché non vi crederete Che tutte le celebrità Che scrivono dei libri In realtà Scrivano loro i libri Scrivere un libro È una roba complicata Non basta aprire word E buttare le parole dentro E bam Ho fatto il libro Cioè ci sono molte persone Che ti pubblicano il libro Anche così Però se stai scrivendo Un libro importante Sei un nome importante Non funziona assolutamente così Il libro passa dei processi E se non sei uno scrittore professionista Probabilmente Hai bisogno d'aiuto E l'aiuto ti viene dato E immagino che con tutto il bene Che si può volere a questa ragazza Ha una 24enne Che fa la vlogger Magari non è esattamente Uno scrittore professionista E quindi Può aver avuto bisogno d'aiuto Peraltro non ha nemmeno detto Quanto ha avuto bisogno d'aiuto Quindi magari Gli hanno semplicemente corretto alcune cose O gli hanno riscritto alcune parti Insomma Non lo sapremmo mai Ma il punto è che Questi titoli Sono una vergogna Perché è noto Che la figura del ghost writer È ancora Viva e vegeta Magari Poco pagata Non lo so Però viva e vegeta Insomma la gente è indignata E la gente è indignata Anche per un'altra roba Che viene sempre da internet E riguarda questo simpatico amico Noto come Grumpy Cat Il gatto più amato Dagli italiani Del web E da tutto il mondo Visto che questo gatto Effettivamente È una sorta di celebrità Io non ne avevo idea Internet sta diventando Una roba gigante Non è possibile sapere tutto Io pensavo fosse semplicemente La foto di un gatto Che è diventata famosa No Il gatto è famoso Dato che la proprietaria del gatto Questa signora qui Che si chiama Tabata Bunsen Gli ha creato praticamente Tutto un universo Il che è fantastico Per varie ragioni La prima è che questo gatto Ha raggiunto nella sua vita Molto più di quanto Io raggiungerò mai Perché ha fatto un film Ha una sua linea di Frappuccino Due Fa tutto questo Essendo un gatto E tre Sarebbero saltate fuori Delle voci Che vorrebbero l'ammontare Di soldi Che la donna sarebbe riuscita A racimolare In due anni Grazie alle capacità Del suo gatto Che sembra sempre Molto arrabbiato Impressionante Si è parlato Per due anni Di 100 milioni Di dollari Tra partnership Merchandise E cose Soldi E già dall'inizio A me questa cifra Sembrava molto 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 grande Infatti l'Huffington Post Ha smentito questa cosa E la donna ha fatto sapere Che presto Salterà fuori Un'intervista Nella quale Dirà delle cose E comunque Sembra essere molto importante Che il mondo sappia Quanto Grumpy Cat Ha fatto guadagnare Alla sua padrona Che così lo sai Ha lasciato il suo lavoro Per seguire Il sogno Di far diventare Grumpy Cat Una star E poi Ipoteticamente Bere dei margarita Alla faccia tua E anche alla faccia mia E alla faccia di un po' Chiunque Quindi cose Storie Soldi Però 100 milioni Sono troppi Quindi no Parlando di cose più serie Oggi dovrebbe saltare fuori Un importante report Distribuito dalla Casa Bianca Che riguarderà Le torture Perpetuate Attenzione Dai servizi segreti Statunitensi Quindi dalla CIA A danno di molti detenuti Considerati pericolosi Dopo l'11 settembre Perché apparentemente Dopo l'11 settembre L'amministrazione Bush Ha spinto un programma Di antiterrorismo Molto forte E come conseguenza Di questo piano antiterrorismo Che non ha mai Veramente funzionato Apparentemente Visto che nessuna Informazione Veramente utile È stata poi estorta Dalle persone Che sono state Torturate dalla CIA Perché di questo si parla Anche se in teoria Non si può Perché la cosa interessante È che in teoria Non puoi torturare nessuno Tipo sul suolo americano Perché ci sono le leggi Americane che te lo impediscono Allora qual è La svoltona Prendere i detenuti Spostarli in delle basi Che non stanno sul suolo americano E quindi far loro Tutto quello che vuoi E apparentemente Questa roba sarebbe stata Chiusa dall'amministrazione Obama Perché Obama Sarebbe arrivato E avrebbe detto Wow, stiamo davvero Facendo queste cose Ciò che la Casa Bianca Diffonderà Sarà un riassunto Di questi documenti Il contenuto Di questi documenti Apparentemente Potrebbe essere Fastidioso Negli occhi dell'opinione pubblica Tanto che Molte delle ambasciate Americane In giro per il mondo Sarebbero state rafforzate Con più soldati Perché si ha paura Che il sentimento anti USA Che è ben radicato In molte parti del mondo Sia risvegliato Dallo scoprire Che magari A queste persone Gli facevano del male Cosa che probabilmente sarà Ma questa gentaglia È tutto quello che ho avuto a dirvi Per oggi Grazie per aver guardato Grazie ai nostri due alfieri Per oggi Che mi hanno mandato Questa foto un po' strana Che però mi ha fatto ridere Non so se Sono io Che ho un senso dell'umorismo Non so Il fatto che vi stringiate la mano Mi ha fatto molto ridere È anche il Garanyukamol Con quello che credo che sia Kim Jong-un E insomma È una foto fantastica Fate i bravi Ci vediamo domani Alle 18 Slash 19 Ci vediamo Ci vediamo